L'AIL, associazione italiana contro le leucemie e linfomi, ha cominciato questa mattina all'Ipercop di Pesaro a vendere le sue tradizionali stelle di Natale che dal 5 all'8 dicembre porterà in piazze e strade di tutti i comuni della provincia con uno sforzo supplettivo di vendita e consegna a domicilio per evitare assembramenti. Regalare una stella di Natale a AIL significa soprattutto regalare un aiuto e un sostegno concreto alla ricerca scientifica e a tutti quei malati di leucemia divenuti ancora più fragili in un 2020 marcatamente segnato dalla pandemia. Noi li abbiamo protetti al massimo in questo periodo e quindi è stata una doppia fatica però in questo oltre che dall'azienda ospedaliera che ci ha supportato siamo aiutati da AIL che si supporta AIL Pesaro in tante cose, dalla ricerca alla protezione dei pazienti con il villaggio AIL che consente ai familiari e a chi esce dal trapianto perché il trapianto è una delle cose più delicate che facciamo di poter essere in una posizione protetta vicino all'ospedale, all'assistenza domiciliare per chi non si può spostare e quindi tante opportunità che AIL ci sta dando da molto tempo e che ci ha continuato a dare anche in questo momento di grande difficoltà, anche finanziaria perché la situazione attuale la conosciamo tutti. Adesso siamo appunto con la manifestazione delle stelle che c'è un po' tutti gli anni e speriamo che le persone si ricordino anche di AIL Pesaro perché merita effettivamente. Ecco infatti la sua presenza qua oggi sta proprio a rimarcare come questo momento natalizio possa fare un breccia diciamo anche nella sensibilità di chi può dare un contributo importante verso questa causa. Lo ha sempre fatto quindi noi ci contiamo ecco in questo ma soprattutto vogliamo appunto ricordare quanto si è fatto e quanto si continua a fare ecco in questo campo. Abbiamo fatto delle ricerche molto interessanti, i farmaci praticamente ancora non sul mercato arrivati per i pazienti per tempo, quindi persone che si sono salvate anche grazie a questi aspetti, ce ne abbiamo anche tuttora. Quindi la presenza appunto di una buona ematologia e di una buona AIL locale per tutto il territorio della provincia e fuori perché vediamo gente anche da tutta Italia e da fuori è molto importante. La mia madre è stata recentemente diagnosticata, è stata recentemente diagnosticata una leucemia acuta meloide e in brevissimo tempo dopo un consulto col professor Visani c'è stata questa, chiaramente io e mio fratello come figli di una signora di 83 anni abbiamo cercato di rivolgerci al centro più autorevole che c'era in Italia. Io vivo all'estero però mi sono informato e chiaramente per una madre si fa sempre il meglio. Ci siamo senza alcuna agitazione indirizzati al professor Visani e alla sua equip di Pesaro. Per seguire una paziente che si trasferiva dalla Toscana a Pesaro per fare queste cure d'avanguardia, chiaramente c'era anche tutto un problema logistico. Questo problema logistico è stato, grazie all'intervento del professor Visani e della sezione dell'AIL di Pesaro, è stato risolto mettendoci a disposizione un alloggio al villaggio AIL. Quindi noi siamo estremamente grati a tutta questa famiglia dell'AIL di Pesaro, al professor Visani, al suo viceprimario Isidori, al presidente Serra dell'AIL. Veramente siamo stati, oltre tra l'altro averci potuto risolvere questo problema urgente, siamo trovati proprio accolti da, posso dire quasi da amici, insomma un ambiente veramente molto, molto, siamo rimasti commossi.